salve a tutti ragazzi bentornati sul canale di g90 gamer eccoci qui oggi con resident evil revelations 2 anche qui scatta un po' di infognamento poi diciamo che abbiamo ancora resident evil revelations da portare avanti ma intanto oggi ragazzi vi propongo revelations 2 e non ho ancora provato a dire il vero revelations mi sta garbando davvero tanto e oggi per l'appunto vi propongo revelations 2 come sempre siamo su pc la grafica e la visuale è la stessa non ci sono mod sul titolo detto questo vi invito a lasciare un bel mi piace e di condividerlo così aiuteremo il canale e la serie in generale mi raccomando cuffie volume a palla luci spente e soprattutto mi raccomando condividete il video si parte bene io direi di andare con una nuova partita bene perfetto siamo con clear e abbiamo un braccialetto al polso non so credo che sei in carcere ciccia ti hanno portato in galera che cosa hai fatto a chi hai derubato cerchiamo quantomeno di capire dov'è che dobbiamo andare io ovvio ho tutto quanto ad ultra tutto quanto al massimo vediamo un po possiamo spostarci da cella a cella però a quanto pare mi sa che devo andare per forza di qua di sicuro una mappa noi non ce l'abbiamo almeno per il momento sì come detto vorrei provare anche questo revelations 2 w più ctrl per accomacciarci ok perfetto abbiamo anche un'altra ragazza ora cerchiamo di capire come eh aspetta sto cercando di capire com'è che ti posso tirare fuori di qua se ci sta un modo per tirarla fuori da lì a statizia aspetta due secondi ciccia non vedi che qui ci sta secondo me dovrei fare qualche cosa vicino a quella zona cerchiamo di capire da dov'è che devo andare che cos'è che devo fare perché a quanto pare mi sa che abbiamo una strada chiusa che è questa e mentre qui invece abbiamo mi sembra strano scappa dalla struttura però secondo me loro non sanno che ci stanno guardando ci stanno osservando dalle telecamere questo purtroppo non lo sanno a quanto pare noi dobbiamo andarcene via di qua bene siamo arrivati se lo sapevo guardati avrei dato subito una risposta bene ottimo voi mi raccomando state con le luci spente io purtroppo non posso stare con le luci spente perché altrimenti non mi vedete e di lì è andato a farsi benedire perfetto la tizia è dietro di me anche credo che dobbiamo prendere questa scala oddio si è anche ben fatto ben costruito devo dire ben sistemato che poi voglio dire che la saga i titoli di resident evil sono fatti anche abbastanza bene forza cicci alla sotto su muoviti non è che posso stare aspettate come detto sono fatti anche abbastanza bene cercano sempre di offrirci il meglio quando loro possono e tutti il resto oh cavolo che cacchio è successo che è stato sto grido sì e a quanto pare mi saprò forse c'era qualche altro non si sa perché vedo un po di sangue e non so se sia una cosa fatta abbastanza onesta oddio maronne che cavolo è che il sottoscritto deve censurare le parolacce bene credo ci sia una via d'uscita al di là del vetro scusa giovane esci fuori va ora cerchiamo di andare avanti abbiamo un bel po di strade abbiamo un coltello questo potrebbe servire meno male che funziona sì anche quella potrebbe servire attacco ravvicinato sì vabbè però no avvicina la tizio lei porta la torcia io porto un coltello credo che dovremmo andare da questa parte no è chiuso suppongo sia chiuso di qua e sì infatti dovremmo cambiare strategia aspettate ah ok ottimo sì non l'avevo capito ora salvataggio automatico benissimo non posso salvare io automaticamente regole per il monitoraggio delle cavie tutti gli addetti agli esperimenti dovranno osservare le seguenti regole il soggetto deve essere monitorato 24 ore al giorno monitorare il sensore per qualsiasi variazione aggiornare il registro ogni 10 minuti smaltire immediatamente tutti i soggetti che presentano anomalie che cos'è che abbiamo più abbiamo una pistola un'arma sì munizioni per la pistola ma non me ne faccio niente però inventario munizioni maria eclair ah no moira eclair ok perfetto quindi possiamo consegnare a lei le munizioni oppure rimuovere o confermare va bene che cos'è che abbiamo più una porta dove che siamo andati prima e qua invece oddio c'è la sensibilità del mouse un po' troppo alta devo dire perfetto siamo usciti ma che cavolo è ma è un ospedale non riuscire a passare sotto dammi una mano moira sì moira infatti eeeh vai ok ctrl abbassati olè attenta stai indietro spostalo spostalo vai così tanto cavolo voglio dire a leggero questi qua sono leggeri ma vaffan club ma che cacchio oh giovane a cuccia a te a buona cuccia maronne che cacchio di spavento oddio che poi non ho capito che cos'è quella braccialetto al polso se sarà qualche cosa di più che altro invece di dire parolacce aiutami cerca di aiutarmi ecco hai fatto una cosa bene hai acceso una torcia brava vai avanti vai avanti basta così credo che ah aspetta sta rincorrendo dietro quella tizia sì la ucciderà però aspetta erba verde ah mi sa che l'ha fatta fuori però o no? no no ancora no aspettate andiamo dove cavolo è che ci sta portando questo posto qui dobbiamo aiutarci sempre a vicenda sì infatti come l'altro resident evil revelation oddio oddio eh hai detto giusto perché qualcuno farebbe tutto questo macello aspetta fatemi dare un'occhiata qua e poi è chiuso bene usami anche aspetta ecco là eh sì infatti c'è qualcuno che ci sta osservando che ci apre le porte recupera la chiave secondo me c'è quel quadro che non cosa perché è troppo strano sta cosa che ci aiutano non credo a fuggire però comunque sia c'è qualcuno che ci sta osservando non sappiamo chi sia questo qualcuno devo dire che come detto è fatto anche abbastanza bene non credo non credo che sia che sarà facile andare avanti perché comunque sia bisogna sempre risolvere enigmi su enigmi io mi do sempre una piccola spippolata in giro mettete caso che riesco a trovare magari una pistola o qualche cosa sempre magari dell'erba verde e sopra di noi dobbiamo proseguire di qua e credo scendere queste scale ok ok ce l'abbiamo fatta la chiave è laggiù questo posto puzza eh che te devo fare ciccia se posso fare niente per forza guarda un po' quanti cavoli di cadaveri vecchio la chiave non c'è ne pareva bene ecco perfetto finalmente abbiamo una pistola la chiave si deve essere staccata con la caduta può essere ovunque è troppo buio illumina quinto dunque tab per cambiare il personaggio ah ok z per la torcia sì o no devo cercare quanto meno le chiavi in questa zona perché se lui è caduto gli saranno saltate e a quanto pare gli siano saltate credo da potrebbe essersi impigliata in qualcosa cadendo mmm non si sa cavolo però secondo me dovrebbero essere da qua vicino perché mi sembra un po' troppo strano che siano andate così troppo lontane eppure mi ci sto girando completamente tutto quanto il posto però non riesco a tro... eccole è fuori portata provo a farla cadere sparando cambia personaggio ok perfetto abbiamo le chiavi chiave dell'aria esperimenti però aspettate l'hai aperto l'hai aperto aia c'è morto? credo di sì oh cacchio meglio darcela andiamo se... aspetta aspetta sì lo so che l'amica ok un colpo alla destra ricarica olè perfetto è chiusa maledizione ma l'ho vista brutta però eh ho consumato un bel po' di munizioni torniamo e proviamo la chiave oddio dobbiamo ritornare indietro? ah è andato pure questo wasad più spazio per schivare aspettate dell'erba verde ottimo ricaricami la pistola prima che arrivi ancora qualche altro cacchio oh non lo fossi beccato una volta in testa non lo fossi beccato una volta in testa sto maledetto brutto maleducato brutto maleducato com'è che ti permetti ok a posto fatto fuori ok olè vediamo un po' si infatti le celle si sono aperte magari oia maledetto aspetta o le beccate in testa magari delle munizioni o cosa e aia cavolo cacchio vai 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 colpisci 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 oddio maronne perfetto ce l'abbiamo fatto dobbiamo credo risalire sopra ullala abbiamo un fucile m147s cambia armi 1 2 3 4 qua niente eh scusa come cavolo è che faccio per spostarlo o qualcosa se dobbiamo andare di qua non mi dice assolutamente niente per com'è che devo fare maledizione ma è questa la strada giusta come detto non ci abbiamo credo una mappa ancora o no no non ci abbiamo ancora una mappa però di qua non si ritorna più indietro allora vuol dire che la strada sarà giusta giusto quella però non riesco a spostare quel cavolo di coso se magari si ah ok si a chi ha mi dispiace ma non uso armi non dopo l'accaduto non dopo l'accaduto non dopo scusa la cosa è l'accaduto magari troviamo qualcos'altro aspetta perché io queste qui le posso ok scusa perché è passata la ragazza non ho capito c'è qualcosa che luccica laggiù ma non riesco a vedere cos'è ti faccio un po' di luce un talatore dove ah ok la due che cavolo piede di porco o pazio dunque aiuta Moira l'aiuto di Moira Moira può usare il piede di porco per colpire i nemici con ok estordirli colpendoli da dietro può anche effettuare un attacco a terra sui nemici ok la signorina Moira è anche lei attrezzata no voglio vedere se ci stanno delle casse o meno da spappolare da spappolare ce la fai? beh credo di si si ok si chiama gioco di squadra una bambina Claire l'hai visto non è vero? si si ho visto qualcosa aspetta perchè vedo una cosa luccicare qua e un'altra cosa qua ok cavolo è molto infognante come titolo devo dirlo sono onesto si ogni tanto una bottigina di lag però la tira pure e si infatti ogni tanto una bottigina di lag la tira qui è meglio non avvicinarsi si farà meglio mh quelle camere le braccialetti cambiano colore in base alla paura e tu di preciso chi saresti così tanta sofferenza non sapete ancora di cosa aver paura ok perfetto il braccialetto non dirmi che questa qua aprirà le gabbie per poter far uscire ecco come non detto come non detto via damuse quanto pare mi sa proprio di si che mappa del centro di detenzione ok finalmente abbiamo una mappa qui invece pieno di miglioramento delle misure di sicurezza in base agli ordini del direttore ho messo il marchi ingegno sputafuoco di fronte all'uscita alle fiamme che questo corso è capace di sputare sono incredibili anche se diversi degli esperimenti trovassero a fuggire tutti insieme e verrebbero inceneriti men che non si dica tu non puoi passare capitolo chiuso per qui che per qui chiunque tenti la fuga sembra una via di fuga eh c'hai ragione tizia eh già ora credo che ci vorrà una chiave ovvero aspetta com'è che faccio ad arrivare la non posso arrivare la ecchio se sto corso si mette in moto ci fa fuori a tutte e due all'istante è chiusa dall'altro lato benissimo perfetto eeeh non vedo vie ed uscite a quanto pare eh bene però abbiamo questa zona che è visitabile aspetta che roba eh estratti della nella colonia penale di kafka il viaggiatore chiese non conosce la sua condanna l'ufficiale rispose sarebbe inutile donargli tale informazione la prova sul proprio corpo andiamo avanti sperando che aspetta eh lo so corrente da dove può essere questo interruttore forse magari dall'altro lato aspetta perché sulla mappa vedo una chiave inglese inventario che roba eh mira passamele perfetto che cos'è questa fasciatura fasciatura che ferma il sanguinamento usabile anche se posseduta dal partner meglio a sapersi ah ecco qui si il potenziamento custodia delle delle parti ora vediamo un po' banco da lavoro puoi potenziare equipaggiare le tue armi al banco da lavoro potenziamento puoi equipaggiare o rimuovere le parti di modifica che hai collezionato equipaggiamento puoi scegliere le armi equipaggiare per tutte le missioni vediamo un po' potenzia arma io vorrei potenziare il fucile credo che ho potenziato il mio fucile sì infatti però la pistola non è disponibile perché ne abbiamo trovato soltanto uno qui è il banco di crafting ovvero di potenziamento delle armi mentre a noi serve invece un interruttore per la corrente ok bene devo cercare di salire qua sopra forza 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 ok ora abbiamo soltanto un piede di porco e se ci attacca qualche cosa siamo fritti dunque apertura cassa 1 alcune casse devono essere sbloccate un mobile cursore per trovare il punto di sblocco la posizione del punto di sblocco può essere determinata dal colore del cursore e dalla vibrazione del controller riceverei un suggerimento solo per la prima sequenza apertura cassa 1 alcune casse devono essere sbloccate un mobile cursore per trovare il punto di sblocco la posizione del punto di sblocco può essere determinata dal colore del cursore e dalla vibrazione del controller ok apertura cassa 2 a volte sono presenti diversi punti di sblocco prova a trovarli tutto eh sì certe ne parola ok forse credo qui sì perfetto ottimo ok abbiamo recuperato una custodia munizioni per pistola che devo dare a Claire dopo mentre qui invece noi dovremmo attivare la corrente ok e se non ce la fai da sola ciccia apri ok dobbiamo salire di là perché se lì si aspetta ci sta una scala ottimo perfetto eh sarà un po' troppo troppo difficile ciccia però eh aspetta di là di qua non si va da nessuna parte mentre di qua invece ci sarà un'uscita ecco qui andiamo avanti oh oh è chiusa dall'altro lato ah bene ci stanno credo delle cose interessanti e ciccia anche io voglio andarmene di qui e infatti perché chi va troppo chi va lontano oddio ci stanno chi va sano va piano e va lontano come disse una volta un tale la lettera del prigioniero scritta in russo cara mammina non so se mai la leggerai ma ho bisogno di te ci chiamiamo esperimenti ci torturano tutti i giorni tutti i santi giorni cosa ho fatto per meritarmi tutto questo perché tutto ciò sta accadendo ma così male ogni giorno ho paura di quello che potrebbe accadere il giorno successivo mammina per favore aiutami persone purtroppo che venivano torturate in questo dannato posto giorno oh giovane guarda questo si perché non mi dà manco il tempo di ricaricare l'arma se per questo aspetta giovane fanclubs fanclubs pure tu maledetto stronzo altre fasciature vediamo un po' aspetta ok passa un attimo a lei inventario però aspetta lì non aveva il porta munizioni avviso sull'esecuzione degli esperimenti i sensori con cui sono stato equipaggiato gli esperimenti misurano i livelli di adrenalina e di noradrenalina per valutare il livello di paura del soggetto i colori cambiano in base a quello verde normale arancione ansia rosso lampeggiante paura rosso mutazione se il sensore del soggetto diventa rosso vuol dire che è già passato allo stadio allo stadio mutazionale parategli immediatamente ok quindi ecco a che cosa servono sti braccialetti servono per vedere le ansie delle persone scendiamo di sotto andiamo a vedere qua ne fossi beccato uno oh oh quello lì è molto più incazzato questo qua è molto più incazza maronne sanguinamento quando vieni colpito da un attacco potente entrerai nello nello stato sanguinamento in questo stato non potrai correre e subirai un danno costante usa una fasciatura per fermare il sanguinamento se il tuo partner possiede una fasciatura la userà automaticamente per aiutarti ok e aridagliela andiamo se maronne aspetta che forse con questo qua oh dai oh fan club fan club fan club si ci è morto ok però non ho più le bende le fasciature non ce le ho più però devo dire che è molto molto carino anche l'effetto sangue sul schermo e si vediamo un po' se riesco a trovare cose magari delle bende lancia arma secondaria si se in caso mai abbiamo bisogno di un'arma secondaria capi arrugginita ok meglio che niente cerchiamo di andarcene via da sto posto apri si devo dire che è veramente fatto bene a schermo il sanguinamento oddio non so dov'è che ci troviamo però eh si damo se va secondo me la strada non è di qua vediamo un po' giriamoci intorno vediamo un po' che cos'è che troviamo qui estratti da il processo di Kafka l'uomo espresse la sua volontà di passare per le porte il guardiano ripose rispose se veramente vuoi passare allora infrangi le regole e vai ma si avvisato non sono altro che un umile guardiano coloro che si trovano al di là delle porte ti faranno rabbrivedire di paura si ce l'ho io aspetta di porco proviamo verso di qua no niente no niente anche di qua ok quindi in base all'ultimo punto direi che dovrebbe essere più o meno no è un po' più in avanti no oh e dai e che è così difficile oh finalmente che cavolo sono riuscito a pigliarla f ok custodia delle parti però comunque sia noi non abbiamo di bisogno ho raccolto delle altre cose bene inventario passa passa e passa ok perché comunque sia lì non se ne fa assolutamente niente ole oh che cos'è sta cuccia buonino ancora no ok perfetto è andato ora cerchiamo di aspetta ma siamo ritornati indietro munizione fucile beccate anche queste ok dai ragazzi allora io direi quasi quasi di completare qui questo primo appuntamento della serie di resident evil revelations 2 mi raccomando fatemi sapere anche la vostra qui sotto qui nei commenti di che cosa ne pensate e mi raccomando spolliciate commentate iscrivetevi attivate la campanellina condividete questo video per poter aiutare serie e canale a crescere mi raccomando noi ci si becca in un prossimo video finiamo proprio con bellezza do sta chi è che ti ha colpito scusa dove stava dove che stava scusa se ti ha beccato perché hai fatto aia vabbè comunque sia un saluto a tutti da g90gamer ciao ciao